Buonasera cari amici, qui Mirko Galerano, inviato speciale del piccolo magazine dalla discoteca Nuova Idea di Corsico di Milano, abbiamo il piacere di avere con noi, tra gli ospiti all'ingresso Alessia Bergamo, la Miss Trans Italia 2013 La stupenda Alessia Bergamo che ci ha ricordato che è già stata vincitrice di questo titolo e questa sera si trova qui con noi per quale motivo? Beh innanzitutto per dare visibilità al mondo trans con la mia presenza perché ne abbiamo veramente bisogno e poi per dare anche un in bocca al lupo alle partecipanti Tu hai qualche amica che concorre, che sfila? Beh sì, ne ho tante, la maggior parte diciamo, ci conosciamo oramai tutte, chi più chi meno ma auguro un in bocca al lupo a tutte in generale che venga la migliore Ma non hai un'amica del cuore a cui vuoi lanciare un in bocca al lupo particolare? Dai, rompiamo gli argini, dai, diciamo qualcosa Beh sì, ovvio che ce l'ho, però giustamente lo tengo per me, ecco, quindi che vinca la migliore, dai Grazie, sei molto diplomatica, è un piacere averti qua con noi Buona serata e vinca la migliore come hai detto Grazie, un bacio a tutti Grazie 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 Grazie